Siamo nella sala 3 dedicata alla teologia del matita. Leggiamo la novella decima delle novelle correttanti. Un'impaccia di Geremè, scoperto in casa loro dai fratelli di Nelda Lambertazzi, viene ucciso. Lei lo trova sepolto e gli sottia la ferita dal cuore, poi per dolore si uccide, ne seguono lotte e tue. Dovete sapere, benigno padre, pietose donne e generosi gentiluomini, che da bambina sentì raccontare questo fatto dal mio verace avo paterno, da lui appreso quando era in esilio con Antonio Galeazzo Bentivoglio a Firenze, città nobilissima, a causa dei Canetoli, che allora erano di notevole prestigio nella nostra città. Al tempo di Teodosi e secondo imperatore c'erano due potenti ed eccelse famiglie nella nostra città, cioè i Lambertazzi e i Geremèi, e quest'ultima aveva in mano il governo. Tra i suoi c'era un bel giovane di nome Bonifacio, figlio di Geremia, cavaliere prestigioso, che si era innamorato della bellissima Inelda e figlia di Roberto Lambertazzi, anche lui cavaliere di gran valore. L'amore era segretamente corrisposto e i due giovani cercavano di piacersi l'un l'altro, sì che amore ingrato si rallegrava e concesse loro l'occasione, il luogo e il modo di parlare insieme a una finestra. E la ragazza diede appuntamento al giovane per quella notte, venuta la quale Bonifacio entrò nella casa dell'amata, ma i fratelli di lei se ne accorsero. Essi, che già erano maldisposti verso la giovane per il suo continuo passare davanti alla loro casa, appena lo videro lo afferrarono, e uno di loro, impaziente e curioso più degli altri, gli inferso una coltellata nel petto e gli passò il cuore con un taglio profondo. Morio all'estante e i fratelli, resisi conto e pentiti di aver commesso tanto delitto, ragionarono sulle conseguenze e conclusero di tenere nascosta la cosa e di seppellire il giovane in un angolo della casa. La mattina seguente montarono a cavalli avanti giorno, e per alcuni giorni se ne settero fuori città, minacciando di morte la sconsolata sorella se avesse fatto parola. Lei infatti si era accorta della colluttazione e dopo la loro partenza, temendo il peggio, si era messa a cercare tremante e piena di paura per tutta la casa, se per caso vedesse il suo bonifacio, ma temeva di trovarlo più morto che vivo per il duro atteggiamento e le parole severe dei fratelli. Mentre cercava, chiamava pian piano per nome. Dopo un po' vide un rigoletto di sangue e seguitelo, arrivò dove era stato sepolto. Accortasi del terreno smosso, gli si pose in ginocchio e con ardenti sospiri e angosciose lacrime, cominciò a rimuoverlo con le unghie e tanto feci che arrivò al moto amante. Appena lo vide, con sommessa voce si indulti per paura di essere sentita, sebbene fosse già l'uscita di sé, cominciò a piangere e a dire «Oh, e me, misera malnata, chi mai fu più disgraziato di me?» E si mise le mani nei biondi capelli, strappandosene con violenza e per contendosi il volto già mortificato e bagnandosi il candido petto di lacrime. «Caro Bonifacio, dolce riposo dell'anima mia tapina, come ti vedo conciato?» Egli puliva con un fazzoletto la feriva, la ferita, gli baciava infinite volte la fronte, gli occhi e il freddo viso, dicendo «Crudelissimi fratelli senza pietà, come avete potuto uccidere un giovane così? Come avete potuto imprudelire contro tanta pelletta piena di virtù e di buoni costumi? Cosa avreste mai fatto contro chi mi avesse avuto in odio se avreste potuto uccidere colui che mi amava più di se stesso? O se avreste usato la pietà di trapassare con lo stesso coltello anche il mio cuore? Cosa sarà la mia vita senza di te? Quale dolore fu mai simile al mio? Per porre fine ai suoi dolori, l'anima mia dovrà seguire la tua e questa mia bellezza e gli occhi ora lacrimosi in cui solevi specchiarti rimangano qui, tra le tue braccia, in un solo sepolcro. Così dicendo, prese un veleno che il padre, potentissimo cittadino, e i fratelli tenevano per poter risolvere certi colpi sinistri di fortuna che gli capitano spesso come capi di parte nella nostra città e odiati da molti cittadini. E diluitolo lo pose nella ferita del morto amante, dicendo «Fratelli assassini, assetati di sangue amoroso, oggi perderete la vostra sorella che il padre vi aveva affidato in punto di morte perché ne aveste special cura, già morta nostra madre. Come sarebbe stato meglio morire con lui?» Così dicendo, con voce flebile, mise la bocca sulla ferita e la suffiò con fiero animo, dicendo «Quanto è dolce questo liquore che viene dal tuo cuore lacerato, unica speranza della mia vita che mi hai amata più di ogni altra cosa al mondo!» In breve tempo la sua anima abbandonò il misero corpo e rimase stecchita sul petto del morto amante. Come costume della fama portatrice di Male Nove, il grave e inaudito caso fu presto conosciuto e ne seguì una guerra civile, favorita dall'essere quelle due famiglie e capi delle fazioni Guelfe di Bellino. Tutte le strade di Bologna si bagnarono il sangue cittadino e la fazione dei Lambertazzi fu battuta, 20.000 e 12 cittadini posti in eterno esilio, come si rileva dall'archivio della nostra nostra città, i quali poi, con l'armi insanguinato, occuparono parte di Romagna e parte di Toscana, dove i loro successori si trovano tuttora con nome delle famiglie espluse da Bologna in quel tempo. Pietose lacrime furono versate per il triste caso narrato dalla nobile donna e si disse che la nostra inquieta città, per certi inclusi del cielo, aveva subito sedizioni civili e guerre intestine ed esterne, ma che poi, da molto tempo, rodeva una dolce e oziosa pace senza alcun mutamento e travaglio, grazie a Dio e all'ottimo e prudentissimo governo dei nostri degnissimi senatori. Alcuni dissero che certamente la città aveva tratto vantaggio dal riposo e dalla quiete intervenuti in Italia, perché quando la nazione è travagliata da armi e raccolti di sfortuna, Bologna, che è centro commerciale d'Italia, ne subisce le conseguenze ed è colpita da sventure. Si conclusi, infine, che oltre alla clemenza del cielo e al sapiente governo dei senatori, la città deve la presente tranquillità alla scelta che ha fatto di affidarsi alla gloriosa famiglia Ventilando. Grazie.